Due anni in più, due anni in meno. Amore. Mi smetti. Spalmi la crema, amore. Te la spalmerò in modo sexy. Va bene. Mi una poca mole. Cigarette. Grazie a voi. Magic mind. I know guys I stayed at 3pm but I actually posted the surprise for you on my profile. So check it out. Che bello passare una giornata come questa celebrando in barca l'uscita del mio nuovo singolo e del trailer del documentario di Chiara. Come avrete notato sono tutti iper produttivi, è uscito il trailer del documentario di mia moglie, il singolo di Luis Salli. Io per non essere da meno ho fatto un autoritratto con dei pastelli a cera che pubblicherò tra un mesetto circa perché devo ancora definirlo. Scusi Duca ma quando uscirà su Spotify? Appena ci sarà un riscontro abbastanza positivo da parte degli ascoltatori, valuterò l'opzione eventuale di pubblicarlo sulle piattaforme di streaming musicali. Ascolta adesso vorrei che tu mi facessi una bella canzone. Come regalo personale! Come regalo personale! Dai, dai dai. Guzzinali. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.